È la nuova frontiera del trattamento radioterapico-oncologico, si chiama Electa Unity. Di questo macchinario ce ne sono solo 11 nel mondo e a partire dalla fine del mese di luglio, prima decade del mese di agosto, inizierà a funzionare niente meno che presso il Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, prima struttura in Italia e nel sud Europa a disporre di questo sistema. Si tratta di un acceleratore lineare integrato con una risonanza magnetica campo alto 1,5 Tesla che consente al radioterapista oncologo di colpire con maggiore precisione e correggere in tempo reale la posizione e le caratteristiche del bersaglio tumorale da colpire. Noi cominceremo con il tumore della prostata, con il tumore del pancreas inoperabile, i pazienti oligometastatici dove cercheremo di proporre rispetto al trattamento palliativo che fino adesso è stato consentito con la radioterapia tradizionale, delle dosi più elevate e quindi dei trattamenti curativi anche sulle sedi metastatiche e poi i ritrattamenti, cioè i pazienti che hanno già fatto una volta la radioterapia ne necessitano di nuovo delle radiazioni, allora noi utilizziamo un'apparecchiatura che con la risonanza magnetica ad alto campo, quindi con elevata precisione, ci fa vedere dove andare a colpire queste sedi risparmiando al meglio i tessuti sani circostanti. Il sistema, opera di ELECTA, multinazionale leader nelle innovazioni per il trattamento oncologico, è costato all'ospedale di Negrar 9 milioni di euro. È stato installato nella quarta sala di trattamento all'interno del Dipartimento di Radioterapia Oncologica avanzata diretto dal professor Alongi. Un nuovo passo avanti nella cura dei pazienti per l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria. È una macchina innovativa, si può chiamare anche una macchina del presente ma anche del futuro, perché è una macchina che verrà aggiornata e innovata per almeno otto anni e quindi noi usufruiremo di tutte queste innovazioni. Sarà una macchina sempre nuova che farà cose sempre migliori, sempre naturalmente nella linea della miglior cura per il paziente. Qui a Negrar, in questo ospedale, c'è la massima cura soprattutto per le malattie oncologiche? Sì, è una scelta che viene da lontano, è stata fatta parecchi anni fa e da allora noi dedichiamo molte delle nostre risorse, gran parte delle nostre risorse alla parte oncologica. È un Cancer Care Center a 360 gradi, il paziente viene curato nella sua globalità.